Sì, siamo onorati ed orgogliosi di questo premio, un premio fantastico, non ce l'aspettavamo, ma diciamo alla fine ce lo siamo anche un po' meritato. E quindi per noi la strategia è questa, la società ha fatto un programma di lavoro nei prossimi, nei primi dieci anni, e quindi iniziamo l'undicesimo anno, abbiamo ancora tante cose da fare e vogliamo migliorare. Noi siamo una piccola società rispetto ai colossi che ci sono a livello europeo, questo ci ha fatto crescere molto, il fatto di avere fatto l'Europa League e la Champions League in modo particolare, quindi abbiamo imparato molto, abbiamo sempre detto è come andare all'università, c'è sempre da imparare e contro questi colossi ci è servito a vedere delle possibili crescite ulteriori all'interno nostro. Per diventare un buon imprenditore, ma soprattutto un buon calciatore, quali sono i segreti? Beh, devi avere tanta passione, ti deve piacere molto, io ho fatto tutto il settore giovanile dell'Atalanta, quindi a 14 anni quando ero stato preso, con dei giocatori che poi sono diventati importantissimi, i sci-rei, i cabrini della situazione, però c'è stata un'impostazione nella società che è servita molto, che è quella della serietà, del comportamento e dell'applicazione, quindi in questo rimane dentro e che è servito per me sia a fare quello che è stato il tragitto nel calcio, poi come imprenditore, perché i principi fondamentali rimangono quelli che è l'onestà, la correttezza, la serietà e non perdere mai lo spirito, la voglia di reagire e di affrontare i problemi che giornalmente ci sono. Ritirando il premio, rivolgendosi al presidente Fontana e al presidente Fermi, le ha detto che la partita più importante è ancora da vincere. Questa è la partita vera, tutti quanti siamo nella stessa partita, speriamo che si vinca nel più breve tempo possibile, non deve durare primo, secondo o terzo tempo, questo è il tempo finale, quindi il vero problema oggi per il mondo, per l'Italia, per noi come territori è quello di vincere questa partita. È un simbolo molto importante perché è una squadra che fa della determinazione, dell'impegno, della salvaguardia dei giovani, della salvaguardia del vivaio, uno dei punti più importanti, è una squadra di una città piccola che però compete con le squadre delle principali città europee. Io credo che abbiano saputo trovare il giusto equilibrio nel difficile mondo del calcio. Sono riusciti sicuramente a organizzare una struttura sana, fatta di persone capaci e che sta dando dei risultati sicuramente eccellenti. E poi mi consenta di dire, è anche stato un punto di riferimento per la città di Bergamo, per la zona di Bergamo che tanto ha sofferto nella prima ondata del Covid e che anche tramite l'Atalanta ha avuto una reazione, una capacità di ripartenza eccellente.